Spiego io? Sì, io ho capito tutto. Fai un segno all'X, se credi a Beppe. Se credi a me, fai un segno a due. Se credi a Loretta, chiedono a tavola, fai un segno numero uno. Nessuno ha detto questo. Occio. Incollate l'italiano da saccare dal biglietto. Nessuno ha detto questo. Ok. Andiamo a francobolo. 120 lire. Sai, nessuno ha detto questo neanche. Super ok. Nome, cognome, indirizzo, telefono. Che se Pippo Bado chiama domenica, ci sono da vincere. Sette milioni. E fanno... Grazie. Fastico. Dai, appicami, fai, appicami, fai!